Siamo bene, eh? Ora, come siamo in alto, guarda qui, ora c'è un piretto al su, oh aiuto, oh mamma mia, guarda le gambe a me mi tremano, oh mamma mia, ma rego alla mia scopa, eh, perché se casco da qua su cima, bambini, ora vengo, eh, ma siete stati bravi? Bello, che cascato luminoso, bambini, guardate qua su, che emozione, ciao, ciao bimbi, salutatemi, voglio vedere le manine in alto, tutte, ciao, ora arrivo, eh, vi ho portato i dolcetti, ma siete stati bravi? Cominienti? E a scuola avete fatto i compiti delle vacanze? Che bella cascata luminosa, mamma mia che emozione, quante testoline che vedo, palloncini colorati, oh ma guarda, vedo anche la mia ombra, la vedete lassù, alla mia sinistra, oh che bello, sono anche riflessa, oh mamma mia, mi è passata la paura, ora sono solo piena di gioia, bimbi sto arrivando, grazie, avete dato un bellissimo suggerimento, chiamare i vigili del fuoco, tutti gli altri mi vengono a salvare, qua, bacini, bacini, eccomi, arrivo, ma vi volete bene alla pepana? Non ho capito, anch'io a voi, eh, ora vi porto tutte le calze, un pochino di carbone, ma poco, eh, per quelle volte che siete stati un pochino vivaci, ma a pistola i bambini sono tutti buoni.